Buongiorno da Edo, vi sono mancato in questi due ultimi giorni di podcast che non c'è stato, non c'è stato perché ero impegnato, ero a Firenze, allo Schrödinger's Hats Open Source Day 2024. Tra l'altro ho vinto anche un Oscar, vedete? C'è stata la notte degli Oscar questa notte, ma io ho vinto l'Oscar più importante. Questa battuta è abbastanza brutta. Comunque questo è il premio, non è un premio, è un riconoscimento che Schrödinger's Hats dà a tutti gli speaker della loro Conf, Open Source Day. E io orgogliosamente, quindi me lo porto a casa, tra l'altro molto bellino, stampato in 3D con questo gattone, Schrödinger's Hats. E niente, me lo porto a casa, un bel evento, un evento in cui ho parlato per la prima volta, c'è stato l'anno scorso, ma io ero lì in veste di visionatore, invece quest'anno proprio ero sul palco, non era un palco in realtà, non c'era il palco nella nostra room, però la room era piena, affollatissima, piena di persone, caldo, incredibile, l'ossigeno si è consumato nel giro di 30 secondi, quindi tutto il resto del talk l'ho fatto in apnea, quindi interessante. Alla fine ero piuttosto provato, mettiamola così. Però è stato bello vedere tutta questa gente che era interessata al mio talk su WebAssembly. Chi non c'era, credo che lo potrà recuperare, perché poi i regats di Schrödinger's Hats pubblicheranno, credo, su YouTube alcune cose, ma comunque credo che lo farò un'ultima volta online gratuitamente in inglese verso fine maggio al We Are Developers Live Day qualcosa. Poi comunque vi appena avrò i link e tutto quanto li condividerò. Quindi se siete interessati a WebAssembly parlerò di nuovo di WebAssembly gratuitamente online su YouTube fra un po' e poi vi terrò insomma tutto. Quindi una due giorni interessante a Firenze. Ho parlato anche troppo di questa roba, quindi mi spiace per chi si è annoiato. Però nella puntata di oggi invece sarà frizzantina, perché parleremo di Linux e di DMA che è entrata proprio in vigore nella sua fase esecutiva la scorsa settimana. Ah, tra l'altro, visto che parlavo di due giorni di assenza del podcastone, in realtà l'assenza è stata solo per chi segue solo il podcast, perché in realtà su YouTube ho pubblicato venerdì e anche giovedì due estratti, due clip estratte dalla live che ho fatto mercoledì scorso. Ecco, ho preso due news che ho letto lì dentro insieme agli, insomma, ai presenti alla chat. E io ho fatto una cosa naturalmente super innovativa e originale che non fa nessuno, ho estratto quei pezzi della live e li ho ricaricati come video. Quindi su YouTube, se state seguendo solo in podcast, troverete queste due edoclips in cui parlo di un paio di robe. Non li metto in podcast semplicemente perché credo che siano quasi, insomma, molto complesse da fruire, perché sono io che parlo leggendo, rispondo a roba che c'è in chat, il ritmo è più lento, non voglio stare lì a montare, tagliare, quindi secondo me in podcast, insomma, non funziona. Quindi se volete vederle dovete andare sul mio canale YouTube. E tra l'altro, a proposito di live, questo mercoledì, sempre alle 13.30, ne farò un'altra. Quindi chi ormai si sta appassionando queste mie live di pranzo, ecco, venite mercoledì che sul mio canale YouTube ci vediamo, parliamo un po' di robe, chiacchieriamo, leggiamo un po' di news. Basta, intro lunghissima, andiamo diretti, diretti ormai, andiamo ormai nelle news della giornata. Allora, perché si parla di Linux? Perché è stata rilasciata la versione 6.8 del kernel Linux. Naturalmente, quando si parla di Linux, mi rivolgo a chi lo sa già, però insomma, metti che qualcuno sia capitato su questo video per sbaglio e senta parlare di Linux così per la prima volta, oppure, eccomi, si sta appassionando alla vicenda, è bene ricordare sempre che Linux, quando si dice Linux, ci si riferisce al kernel Linux, quindi alla parte proprio core del sistema operativo, quella che si preoccupa di dialogare con l'hardware, con tutte le varie schede che si attaccano al PC, di, insomma, gestire il file system, di gestire le chiamate del sistema operativo, insomma, è ovviamente più complesso di così, però, insomma, è la parte proprio centrale, il kernel del sistema. Tutto quello che sta intorno al kernel, e quindi quello che comunemente chiamiamo distribuzione, ecco, quelli sono altri software. Generalmente, la suite di software base che compone il sistema viene chiamata GNU Linux, perché, appunto, il software GNU è quello che sta attorno, tra il compilatore Cia, insomma, una serie di altre cose, che compongono un sistema operativo usabile. Ecco, quella roba lì è GNU Linux. Quando si parla di Linux, si parla solo del kernel, quindi, quando diciamo rilasciato Linux 6.8, stiamo dicendo che è stata rilasciata la versione 6.8 del kernel Linux. E dopo questa inutile premessa, andiamo a vedere che c'è di nuovo il Linux 6.8. Intanto, vi riporto che Linux Torvalds ha parlato di una specie di milestone che arriverà con la prossima release del kernel Linux, cioè si arriverà ai 10 milioni di oggetti Git. Sapete che Git è, naturalmente, il gestore di versioni del codice, mettiamola così, utilizzato da Linux ed è una marea di altri progetti open source, creato dallo stesso Linux Torvalds. Ebbene, gli oggetti in Git sono tutti quelli che rappresentano, appunto, i file del repository e poi, appunto, nelle loro varie versioni. Quindi si arriva ai 10 milioni di oggetti, giusto per far capire quanto è grande questo repo. È un numero, non vuol dire niente, come ricorda lo stesso Linux, però, insomma, è carino vedere un numero bello tondo, ecco, arrivare anche nel kernel Linux. Quindi 10 milioni di Git objects dalla prossima versione. Ma vediamo quali saranno le feature più interessanti di questa release di Linux. Naturalmente non tutte. Non è una release particolarmente importante, diciamo, non ci sono changes che rimarranno nella storia. Ci sono, però, una serie di improvement, soprattutto dal lato del supporto hardware. Ci sono un po' di hardware nuovi supportati, un po' di miglioramenti a quelli già supportati, insomma, e una particolarmente interessante, secondo me, che riguarda la network e poi andremo a vederla. Ah, ricordo che questa versione del kernel Linux sarà la versione ufficiale di Ubuntu 24.04 LTS. Va menzionata perché, probabilmente, è la più diffusa in ambito desktop, in ambito consumer, e quindi, insomma, questa sarà la versione del kernel Linux che molte persone andranno poi a utilizzare, davvero, perché la 24.04 LTS rimarrà installata, ecco, in un parco macchine nei prossimi anni. Ebbene, vediamo un po' di cambiamenti interessanti. Intanto abbiamo più supporto per CPU AMD Zen 5, e quindi nuova generazione di CPU AMD sempre più supportate, quindi nuove CPU ufficialmente supportate. Quindi vediamo un allargamento, ecco, della base di CPU AMD supportate. Naturalmente salto un po' di linee, no, nella release. Vi cito il supporto allo Snapdragon 8 Gen 3, quindi va avanti il supporto al CPU mobile Snapdragon 8 e X Elite. E inoltre, sempre parlando in ambito mobile, c'è il supporto a Google Tensor G1, quindi il System on Chip di Google per l'intelligenza artificiale. Sempre in ambito CPU, vi dico che c'è il supporto per Microblaze 5, che è una CPU per sistemi embedded creata da AMD in architettura RISC-V. Questa la cito soprattutto perché, appunto, per vedere quanto RISC-V stia prendendo sempre più piede in sempre più release del kernel Linux. In realtà non è l'unico hardware RISC-V supportato, c'è anche una telecamera che è un controller RISC-V che viene supportata, però, insomma, tra i processori, questo è importante, il Microblaze di AMD è stato rilasciato negli scorsi mesi ed è appunto una CPU, un controller embedded su architettura RISC-V. Vediamo che il supporto a RISC-V è sempre interessante da vedere. Nel lato invece grafico, sempre rimaniamo in hardware, ma lato GPU, due news particolarmente croccanti. La prima è il nuovo driver grafico di Intel per le schede di architettura XE che è un driver sperimentale che si può utilizzare in alternativa al driver classico che è i915. Ecco, quindi si può scegliere con delle flag oppure facendo il caricamento del driver nel kernel di utilizzare questo nuovo driver XE al posto del precedente e le performance sembrano beneficiarne parecchio. Sono stati fatti dei benchmark, bisogna dire anche Foronix, qua sto leggendo questo elenco da Foronix, Foronix stesso ha fatto dei benchmark sui nuovi driver Intel XE e pare che siano particolarmente promettenti. Quindi le performance sono buone, quindi questo iniziale supporto ai nuovi driver Intel XE pare essere piuttosto frizzante. E l'ultima cosa, sui driver grafici, un supporto al GPU di Raspberry Pi 5 con supporto a V3D. Quindi se voi utilizzate dei sistemi grafici che supportano Mesa su Raspberry Pi 5, ecco, dovreste avere delle performance notamente migliori per il supporto ufficiale al driver grafico senza dover mettere patch al kernel o installare driver esterni, ma avete direttamente il driver di default supportato nel kernel. Dopodiché, per quanto riguarda i file system, ci sono un po' di fix e un po' di improvement a BcacheFS. BcacheFS è un file system che è stato mergiato per la prima volta nella scorsa versione del kernel Linux, quindi la 6.7 e con questa versione ci sono un po' di miglioramenti, un po' di fix, soprattutto miglioramenti alle performance. Dopodiché, due piccolissime notizie che riguardano ancora l'hardware. Uno, il supporto, a chi è interessato, ai driver per il Gigabyte Aorus Waterforce, che sono i dissipatori a liquido per le CPU prodotti appunto da Gigabyte, quindi chi ha dei liquid cooler IO, per chi se ne intende, quindi di dissipatore a liquido dei modelli Gigabyte Aorus, ecco, ora avrà un driver sul kernel Linux che espone naturalmente delle informazioni sul monitoring dell'hardware, le metriche, eccetera, quindi ci potranno creare dei software per gestirlo anche da Linux. E poi il primo driver scritto in Rust. Sapete che il supporto a Rust è stato incluso nel kernel Linux dalla versione 6.1 e adesso abbiamo il primo driver interamente scritto in Rust ufficialmente dentro il kernel Linux. è un driver per un controller di network, di dispositivi PHE, FI, non conosco, però comunque è un controller per dei dispositivi Ethernet. Insomma, è stato scritto in Rust. Quindi abbiamo il primo driver Rust nel kernel Linux, così una notizia curiosa. A proposito di Rust, c'è l'upgrade alla toolchain di Rust 1.74.1, quindi un avanzamento anche in questo. E poi, come vi dicevo, quello che secondo me è potenzialmente la cosa più interessante di questa release, cioè un fix al comportamento dello stack TCP che va ad aumentare in alcune condizioni le performance del 40%. Che cosa vuol dire questa roba qua? Andiamo a vedere un pochino meglio su un altro post di Foronix che ce la spiega. In caso di molte connessioni concorrenti, quindi stiamo parlando di un server a cui arrivano molte connessioni TCP contemporaneamente, con questi fix possiamo arrivare quasi al 40% di performance in più su stack TCP. Come abbiamo fatto ad aggiungere questo? Con una riorganizzazione appunto della struttura della network, soprattutto ottimizzando gli accessi alla cache TCP. Non sto a spiegare esattamente che cos'è la cache TCP, però Coco Lee, che è una sviluppatrice che lavora in Google e ha lavorato appunto allo stack TCP in questa lista del kernel, ne ha un po' parlato e ha detto che attualmente, cioè prima di questa patch, la struttura della network in TCP era organizzata cronologicamente, logicamente e a volte attraverso gli accessi appunto alla cache line. Con questa patch abbiamo riorganizzato questo stack di network per minimizzare proprio i consumi della cache line durante il data transfer e abbiamo lavorato specificamente allo stack TCB IP e alla definizione di fast path in TCP. Ora, so che perché non si occupa di network queste cose possono sembrare abbastanza astruse, ma qui cosa sta dicendo in pratica? Che quando abbiamo tante connessioni, TCP naturalmente deve tenere traccia di tutte le connessioni in ingresso per poi dare i pacchetti giusti in uscita. Cioè voi immaginate, avete un server dove arrivano tante connessioni contemporaneamente e voi quando dovete rispondere dovete stare attenti di rispondere esattamente con i pacchetti network giusti alla connessione che quei pacchetti vi li ha chiesti, no? Quindi per gestire tutti quelli dovete organizzare in un certo modo le connessioni in ingresso per poi decidere, quando avete la risposta, a chi fornirla e poi in base a quali regole mettere o togliere quella connessione in cache che naturalmente vi consente un accesso più veloce. Se la cache è piena, le connessioni nuove saranno gestite più lentamente, quindi una buona gestione della cache fa sì che le connessioni siano gestite più velocemente. Il fast path, così come viene richiamato qua anche da Coco Lee, è quel meccanismo che consente di rispondere a una connessione TCP, IP, in realtà era dello stack IP, no? Una connessione in ingresso direttamente sull'interfaccia da cui quella connessione è arrivata senza passare dalla routing table. Voi sapete naturalmente che quando dovete rispondere su una network da Linux dovete passare da Linux, da qualunque sistema, dovete passare da una routing table. Ecco, per saltare questo passaggio basta prendere la connessione che avete in ingresso, guardare qual è l'interfaccia da cui arriva e rispondere sempre esattamente su quell'interfaccia senza ripassare dalla routing table. Ecco, questo meccanismo viene chiamato fast path e proprio combinando una migliore organizzazione della cache e un migliore accesso al fast path da TCP ecco che si migliorano le performance delle connessioni quando ne avete tante. Quindi stiamo parlando di server, grandi server che gestiscono un grande numero di connessioni. Quanto grande è questa performance gain? Quindi quanto abbiamo guadagnato in performance da questo patch? Beh, sulle piattaforme AMD con connessioni da 100 gigabit siamo arrivati al, vedete, 36, 41, 44, 35% di performance in più. Stessa cosa in IPv6, questo in IPv4, in IPv6 stessa cosa. Invece sulle piattaforme Intel con connessioni da 200 gigabit qui vedo in IPv6 abbiamo una riduzione tutto sommato trascurabile 1%, 4%. Quindi soprattutto su AMD che si concentrano le cose. Infatti, come dice Foronix, sui server AMD EPYC questa cosa impatterà notevolmente. Quindi Google ha lavorato con questa ottimizzazione a bassissimo livello e permetterà una gestione delle connessioni TCP molto più veloce soprattutto su piattaforme AMD e quindi su AMD EPYC. Per chiudere in frizzantezza anche OMG Ubuntu naturalmente si occupa della nuova release kernel Linux 6.8. Cosa dice in particolare? Beh, fa riferimento alle parole di Linux Torvalds che dicono che questa non è una release appunto così importante, così grossa ma include tutto sommato soltanto una serie di fix e di ottimizzazione alle performance su alcuni driver e su alcune stack hardware e secondo Linux la singola ufficio più interessante è il nuovo driver Intel XE per le schede video. Il resto l'abbiamo già più o meno visto il supporto al driver grafico di Raspberry Pi 5 con V3D e una cosa che potrebbe tornare interessante per chi ha dei laptop con piattaforma Intel quindi per esempio il Lenovo ThinkPad X1 Carbon spesso l'X1 Carbon è fornito o viene poi installato Linux ecco perché a questi sistemi ci sarà un performance gain minimo ma insomma qualcosa appunto sulle CPU perché è stato messo a posto in qualche modo un dato che falsava il tetto massimo ai MHz ecco alle frequenze di clock dei processori che era sballato di circa 100 MHz cioè il cap massimo arrivava a 100 MHz più in basso di quello a cui dovrebbe arrivare quella CPU quindi è stato risistemato questo quindi in momenti di massimo carico ecco che la CPU andrà a circa 100 MHz in più ecco non che questo sposti tanto le performance però quantomeno ah per i gamer c'è qualche hardware in più supportato specialmente dal punto di vista dei controller ci sono supporti ai controller di Nintendo Switch Online a chi interessano visto che parlavamo di emulatori a cosa vi serviranno mai controller di Nintendo Switch Online su Linux? eh magari per gli emulatori ma l'avete detto voi? non l'ho detto io poi i controller di Lenovo Legion Go che è una console portatile insomma che però dentro ha un PC e poi qualche sistemazione al Steam Deck lato colori e lato supporto allo Steam Controller qua anche OMG Ubuntu va a sottolineare i nuovi supporti a RISC-V quindi all'hardware RISC-V con Microblaze 5 e poi anche questa videocamera è con Star 5 questo è il sistema on chip che c'è su questa videocamera si chiama Star 5 e basta e poi per chiudere invece la news relativa a Linux 6.8 sappiate che abbiamo anche aumentato un po' anzi insomma un bel po' il market share di Linux sui desktop quindi non è ancora l'anno di Linux su desktop però inizia bene diciamo così perché in effetti come si dice The Register siamo passati secondo StatCounter dal 3% dello scorso luglio al 4% di adesso di febbraio ecco quindi un balzo notevole se vediamo la curva ecco si è alzata notevolmente si è un po' abbassata quella di Chrome OS quindi se considerate Chrome OS un sistema Linux globalmente si è un po' abbassato però si è alzato notevolmente quello di Linux quindi forse alcuni utenti di Chrome OS sono passati a Linux e questo ha fatto sì che i due valori si fossero si siano sballati in questo modo però insomma globalmente si è alzato parecchio tra l'altro questo ha coinciso anche con un abbassamento del market share di Windows 11 adesso Windows 10 è praticamente quasi morto mentre Windows 11 non sta ecco ottenendo i successi che Microsoft spera questo in parte appunto per la richiesta di chip con TPM2 anche se questa cosa si può bypassare ma in parte perché Windows 11 richiede dei modelli di CPU piuttosto nuovi ecco quindi tutti quelli che hanno un hardware vecchiotto ecco non possono utilizzare Windows 11 potrebbero utilizzare Windows 10 ma non piace a nessuno e quindi ecco si può fare fallback a Linux quindi magari molti hanno installato Linux proprio per questa ragione c'è sempre quella grossa fetta di sistemi operativi unknown sconosciuti che forse sono delle versioni molto recenti di Linux o di macOS che tra l'altro ha perso fette di mercato anche lui oppure insomma dei sistemi che ancora non conosciamo però potrebbero far parte del mondo Linux quindi comunque è una bella crescita del market share di Linux da sottolineare nel momento in cui Linux lancia appunto la 6.8 nella seconda news invece parliamo di DMA Digital Markets Act che naturalmente come dicevo è entrato in vigore la scorsa settimana cioè tra il 6 e il 7 marzo c'era bisogno che le big tech designate come gatekeeper facessero i cambiamenti richiesti e promessi proprio per il DMA e quindi possiamo andare a vedere quali sono questi cambiamenti un po' ne abbiamo già parlato con Apple che ha deciso di comunicarli con largo anticipo e quindi c'è stato modo di criticarli ampiamente ecco nell'ultimo mese quindi ne abbiamo parlato li riassumo qua però dovremmo già abbastanza saperlo ecco ci dice The Verge che il 7 marzo questi 6 gatekeeper hanno dovuto comunicare alla Unione Europea quali sono i cambiamenti che hanno messo in atto per rispondere al DMA e ci ricorda se non ve lo ricordaste che cos'è un gatekeeper un gatekeeper è una piattaforma online che risponde a due condizioni la prima è un fatturato nell'Unione Europea di almeno 7 miliardi e mezzo di euro negli ultimi tre anni fiscali oppure un market cap medio di 75 miliardi di euro nell'ultimo anno fiscale naturalmente fornendo i propri servizi ad almeno 3 stati membri dell'Unione Europea la seconda condizione è di avere una platform, una piattaforma online con almeno 45 milioni di utenti attivi al mese nel mercato europeo queste sono le condizioni e appunto se i gatekeeper non sono compliant con le leggi quindi con i requisiti del DMA rischiano multe fino al 10% del totale del fatturato mondiale e fino al 20% se invece le infrazioni saranno ripetute ora andiamo a fare una piccola analisi di ogni gatekeeper e di cosa fa per rispondere a questi requisiti partendo da Alphabet che ha diversi servizi che cadono sotto i requisiti del DMA sono Google Play, Maps, Shopping, Search, YouTube tutto il sistema operativo Android l'advertising system appunto di Alphabet e naturalmente Google Chrome quindi quali sono queste novità ecco in tutto il panorama di Google? bene intanto i famosi choice screens c'è quelle finestre di scelta in cui si può scegliere o il browser predefinito in Android o il motore di ricerca predefinito in un browser Chrome ecco entrambe queste cose sono disponibili già dal 6 marzo per gli utenti dell'Unione Europea e invece altre cose riguardano la presentazione dei risultati di ricerca nel motore proprio di Google per esempio più link quando si cerca per voli o alberghi ecco link di compagnie diverse e con meno privilegio nei risultati per il link di Google quindi per esempio non ci sarà più il box di Google Flights ma ci sarà ecco più competizione anche nell'offrire dei box alternativi dei risultati alternativi a questa ricerca poi anche la possibilità, questo l'abbiamo già visto, di fare opt-out dal linkare i dati, i propri dati che si prendono in un servizio Google con altri servizi Google per esempio i dati che vengono presi da YouTube potreste decidere di non condividerli con Search o con Shopping o con Chrome insomma quindi unlinkare, scollegare i servizi tra di loro in modo che i dati raccolti da uno non possono essere passati all'altro poi c'è anche la nuova Data Portability API questa è un'API che consente agli sviluppatori di creare dei servizi che prendano i vostri dati e li spostino fuori da Google dopodiché delle nuove opzioni per il Play Store ecco per i sviluppatori sul Play Store per offrire metodi di pagamento alternativi sia dentro il Play Store che fuori quindi su web come abbiamo già visto anche per Apple però qua con altre nuove taxe tra l'altro un meccanismo abbastanza complesso di tasse che anche qua ovviamente riceverà anzi ha già ricevuto ma riceverà ancora parecchie critiche perché sempre queste cose un po' complesse nel capire quanto devi pagare mentre se vai sul Play Store normale è tutto piuttosto semplice però se invece fai scelte alternative ti complica un po' la vita nel calcolare quanto dovrai pagare e infatti naturalmente ci sono delle critiche Yelp per esempio ha provato a dire sta provando a appellare appunto a questi cambiamenti dicendo che questi sono dei tentativi di violare indirettamente il DMA perché tentativi come questi in passato si sono invece rivelati favorevoli ai gatekeeper quindi in realtà terranno più gli utenti nel wallet garden di Google piuttosto che il contrario e anche DuckDuckGo ha detto che in passato tutte le volte che abbiamo implementato i choice screen si sono rivelati poco influenti ecco poi nelle preferenze degli utenti che hanno premiato invece il motore di ricerca predefinito quindi non cambierà molto Tim Sweeney il CEO di Epic ha invece parlato del sistema di pagamento implementato da Android e da Play Store dicendo che anche questo è come nel caso di Apple un malicious compliance qua non lo traduco più perché sbaglio la traduzione però si capisce, credo abbastanza bene cosa vuol dire e quindi vedremo poi nei prossimi mesi se questa roba rimarrà tale o sarà ancora un po' smontata di Apple abbiamo già parlato naturalmente consente la distribuzione di app su marketplace di terze parti però con delle regole ancora più strane e soprattutto delle spese notevoli per adesso mi pare che ci sia solo uno store alternativo cioè un'azienda che ha provato a mettere su uno store alternativo non so come stia andando Epic arriverà con il suo dopo aver attraversato una fase un po' strana in cui l'account Epic era stato bannato ora è stato riattivato quindi potrà creare il suo store un po' confusa in questa vicenda però insomma sta andando in qualche modo avanti quindi abbiamo nuovi marketplace di terze parti pagamenti di terze parti che abbiamo già visto e poi il sistema di pagamento Apple Pay NFC accessibile ad app di terze parti naturalmente abbiamo molte critiche soprattutto per quanto riguarda i pagamenti nuovi la core technology fee per chi pubblica su app store di terze parti sopra il milione si dovrà pagare 50 centesimi ad ogni installazione di app sfavorevole ecco perché decide di perseguire questa strada dopodiché passiamo a Meta invece anche per Meta c'è qualche servizio che ricade sotto il regolamento di MA c'è naturalmente Facebook c'è marketplace Instagram Whatsapp Messenger e il sistema di ads inizialmente Meta cosa aveva fatto? aveva messo questa opzione per pagare 9,99 euro al mese e quindi ad avere tutto un Facebook senza ads però non credo che molti abbiano optato per questa scelta e infatti alcuni critici hanno detto sì ma questa è una non scelta perché nessuno di fatto pagherebbe 10 euro al mese per togliere le pubblicità da Facebook è una cazzata e infatti immagino che pochissimi abbiano optato ecco per questo dopodiché c'è anche una pausa per gli ad che compaiono sui Facebook dei minori, dei minorenni quindi per chi ha meno di 18 anni ma non è chiaro come andrà avanti questa vicenda insomma come Facebook gestirà gli ad appunto per i minorenni vedremo c'è anche qui la possibilità di staccare i propri account di scollegare i dati per gli advertising dagli account di Facebook, di Instagram, di Whatsapp insomma decidere di gestire ognuno con il proprio ecco ognuno nel proprio silos ecco invece di condividere tutto e poi anche questo non si è capito ancora bene come ma sarà possibile usare Whatsapp con diversi sistemi di messaggistica cioè sarà aperto a diversi sistemi, diversi client senza rompere però la encryption end to end di Whatsapp non è chiaro come venga fatta non è chiaro quando sarà effettivamente creata e fatta questa roba e quali altri servizi, quali altri client entreranno nell'ecosistema Whatsapp però a quanto pare ecco ci sarà e vedremo poi nei prossimi mesi come verrà ad andare avanti Amazon invece anche qua naturalmente si parla di il suo market quindi di Amazon e il suo sistema di pubblicità cosa cambia fondamentalmente? beh che Amazon dovrà spingere un pochino meno i propri prodotti quando l'utente cerca un prodotto dovrà spingere un pochino meno che normalmente i propri, quelli dei propri marchi compaiono ben in alto nell'elenco delle risposte alle ricerche questo invece non dovrà più essere possibile ma dovranno esserci anche altri produttori ecco a beneficiare di queste classifiche non si capisce bene in quale modo e come verrà effettivamente portato avanti questa roba soprattutto come sarà poi analizzato da parte dei legislatori però questo è e poi anche abbiamo una gestione migliore dei dati pubblicitari da parte degli inserzionisti che potranno avere insomma un report un pochino più dettagliato dei dati delle proprie pubblicità ok? per Microsoft invece anche qua si parla di scelte degli utenti quindi gli utenti potranno scegliere di disinstallare le app predefinite in Windows quindi per esempio il browser Edge oppure l'app delle foto e poi scegliere di utilizzare Google come motore di ricerca all'interno di Windows sapete che adesso c'è appunto Bing invece si potrà scegliere di usare anche Google però sono tutte integrazioni che poi dovranno emergere non ci sono ancora ma appunto ci sarà questa possibilità e quindi Google o terze parti potranno mettere in Windows il proprio motore di ricerca non solo anche nelle widgets di Windows dei produttori di terze parti potranno creare e installare i propri widgets quindi tutto un pochino più aperto un pochino più integrabile vedremo appunto come non è ancora c'è ancora un po' di tempo da aspettare prima di vedere concretamente questi cambiamenti e poi c'è ByteDance ByteDance è l'azienda che possiede TikTok anche loro sono stati disegnati come gatekeeper anche se non ci stanno hanno appellato questa decisione però alcuni dicono che sia una scelta un po' politica perché tutte le compagnie che ho citato fino adesso sono tutte aziende americane l'inclusione di ByteDance secondo alcuni è per far vedere che non è una legge che guarda soltanto e punta il dito contro le compagnie americane ma c'è anche ByteDance che è una compagnia cinese quindi vedete siamo global però in realtà pare che TikTok rientri negli stessi requisiti di tutti gli altri servizi che abbiamo citato finora e quindi giustamente ByteDance dovrebbe essere incluso qua di cosa sta parlando? anche qua di dati pubblicitari e di portabilità quindi della possibilità per gli utenti e per sviluppatori di app di terze parti di andare a prendere i dati degli utenti di TikTok e spostarli facilmente in altri servizi in altri ecosistemi io direi che la chiuderai qua vi do soltanto una dichiarazione della Free Software Foundation Europe che ha parlato anche lei di malicious compliance naturalmente non è contentissima di tutti questi cambiamenti però diciamo che dice che il DMA è un passo nella giusta direzione però bisogna continuare a essere vigili quindi continuare la propria opera di advocacy e poi anche di informazione nei confronti proprio del pubblico del mercato e quindi la Free Software Foundation Europe ha lanciato un sito che si chiama Device Neutrality che vi invito anche a visitare eccolo qua dove parla appunto dell'importanza dell'essere padrone dei propri device e dei software che installate sui vostri device sono fondamentalmente tre i temi che Free Software Foundation cerca di spingere il primo il diritto degli utenti di far girare qualunque software sui propri device il secondo costringe i produttori di device a eliminare qualunque lock-in quindi a far girare i device come vogliamo quelli che abbiamo acquistato dovremmo usarli come desideriamo e il terzo è la portabilità proprio come abbiamo visto quindi limitare i wallet garden limitare i lock-in possibilità di spostarsi facilmente da un servizio all'altro sì ho proprio finito però vi devo lasciare due link finali non ve li commento troppo come al solito vi li lascio naturalmente nella descrizione sia su YouTube che in podcast il primo è un post che ha scritto una mia collega Annalisa Gennaro l'ha scritto sul blog di CNCF Cloud Native Computer Foundation Annalisa lavora con me nel team marketing di Spark Fabric e ha scritto un post che si intitola Reflections After a Year as a CNCF Ambassador e parla appunto di cosa significhi essere un ambassador di CNCF che significa anche non essere coder perché lei non è assolutamente un software engineer e quindi contribuisce a questa open source foundation in modi diversi da quelli del codice quindi per tutti quelli che ecco vorrebbero provare a contribuire magari in modalità alternative allo scrivere codice e a committare patch ecco anche il programma degli ambassador in CNCF ma un po' insomma in tutte le foundation open source è possibile e Annalisa ci dice appunto cosa vuol dire essere ambassador CNCF cosa è stato per lei quest'ultimo anno e credo che sia ecco un post di valore per quelli che vogliono un po' capirci un po' di più e vedere un po' se potrebbe essere interessante anche per loro entrare a far parte di uno di questi programmi quindi ripeto Reflections After a Year as a CNCF Ambassador Unexpected Journeys and Hopefully Valuable Insights sul blog di Cloud Native Computer Foundation poi vi lascio naturalmente il link l'ultimo è un giochino stupido però divertente è teens.dev ed è un creatore di palette grafiche per Tailwind CSS cosa vuol dire? che voi in questo form andate a specificare un colore per esempio prendiamo il rosso prendiamo il rosso e lui vi crea tutte le varie gradazioni di rosso dal più chiaro al più scuro che però stiano bene insieme ecco in qualche modo e che voi potete scegliere anche secondo la luminosità oppure la luminanza non chiedetemi che cosa diavolo voglia dire però potete scegliere ecco di variare la palette su questi due indici dopodiché lui vi crea il codice CSS da incollare in Tailwind in realtà mica solo in Tailwind insomma in tutti i CSS che supportano queste variabili dopodiché copiate e incollate questa roba qua e avete in CSS la vostra palette che potete poi richiamare quando volete a seconda proprio di gradazioni di colore quindi da 50, 100, 200 fino a 950 se volete dal più chiaro al più scuro che credo che sia abbastanza utile per chi vuole farsi una UI comunque è divertente se non volete calcolare a mano la palette potete usare questo teens.dev palette generator per Tailwind CSS vi lascio il link ho finito grazie per avermi seguito ringrazio ancora Shoding Rat anche per questo gattino che ora farò bella mostra di sé su qualche mio scaffale e tutti quelli anche che c'erano all'Open Source Day e vi ricordo che noi ci potremmo vedere in live se vi va mercoledì quindi oggi è l'11, 12, 13 mercoledì 13 alle 13.30 live sul mio canale YouTube per chiacchierare di cose e poi leggere magari un paio di articoli insieme che poi vi ricordo andranno magari in Edo Clips sul mio canale YouTube ho finito davvero ci vediamo alla prossima grazie mille ciao grazie mille